Dalle 7 di questa mattina e fino alle 23, solo oggi, si vota per rinnovare le amministrazioni comunali ed eleggere i sindaci di oltre 1300 comuni. Sette sono i capoluoghi di regioni interessati. Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino, Cagliari e Trieste. 13 milioni gli italiani alle urne per seguire tutti i risultati, speciale qui su questa rete con Enrico Mentana a partire dalle 22.15. Commozione nel mondo per la scomparsa di quello che è considerato il più grande pugile di tutti i tempi, Muammada Lì. Venerdì a Louisville, nel Kentucky, dove era nato 74 anni fa i funerali dell'ex campione dei massimi. L'orazione funebre sarà di Bill Clinton. È stato il più grande, ha reso il mondo migliore, ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, lancia l'allarme sulle conseguenze di una possibile vittoria del SIA alla Brexit nel referendum del 23 giugno. Se il Regno Unito dovesse uscire dall'Europa, è probabile che altri paesi siano tentati di fare lo stesso, ha detto Visco, sottolineando la necessità di contrastare le forze anti-europeiste. Papa Francesco, con la lettera apostolica come una madre amorevole in forma di cosiddetto motu proprio, stabilisce le regole per contrastare la pedofilia nella Chiesa. In caso di negligenza, coperture o insabbiamenti di abusi sessuali sui minori commessi dai sacerdoti, i vescovi che li hanno tollerati potranno essere rimossi. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del Tg la 7. Allora, da poco più di mezz'ora in Italia, in 1342 comuni, le urne sono state aperte per rinnovare i consigli comunali. Al voto potrebbero andare più di 13 milioni di elettori. Potrebbero, perché naturalmente c'è l'incognita dell'astenzione, elemento importantissimo. In tutte le ultime elezioni in Italia si vota negli ultimi tempi sempre meno e gli osservatori non sanno dire quanti saranno i cittadini che si recano le urne. È una delle incognite di questo voto, i cui risultati potrete seguire tutti in diretta qui sulla 7 in uno speciale del telegiornale che inizierà alle 22.15 condotto dal direttore Enrico Mentana e che seguirà tutti i risultati fino alla fine. Poi eventuale turno di ballottaggio, se i candidati non dovessero ottenere la maggioranza, è fra due settimane. Da circa mezz'ora, seggi aperti per le elezioni amministrative parziali, si sta votando in 1.342 comuni sparsi in tutta Italia. 13 milioni di italiani sono chiamati a esprimersi per sindaci, consigli comunali e circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario e in alcuni comuni delle regioni autonome Friuli-Venezia-Giulia, Sardegna e Sicilia. Si voterà soltanto oggi. I seggi saranno aperti fino alle ore 23. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo. Tra i dati più attesi, oltre ovviamente ai risultati dei candidati sindaci e teleliste, quello sull'affluenza. Non solo perché si teme la riconferma del fenomeno dell'assenzionismo, che potrebbe essere favorito anche dal lungo ponte del 2 giugno, ma anche perché potrà condizionare l'esito delle schede più attese. Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna. Si tratta certo di un voto locale, ma vista l'importanza di alcuni municipi coinvolti, non è certo azzardato prevedere effetti anche sullo sfondo nazionale. Anche se il presidente del Consiglio e segretario PD Matteo Renzi, pur essendo presente negli ultimi giorni di campagna elettorale, ha sempre voluto distinguere i due piani, negando qualsiasi contraccolpo sul governo dal voto per la scelta dei sindaci. Il PD targato Renzi punta a confermarsi nelle città in cui governa, sapendo che in qualche caso Roma in primis sarà una battaglia molto difficile. La Capitale è invece l'esame di maturità per i 5 Stelle, che punterà ad un successo fondamentale in chiave nazionale, tanto più che in questa campagna elettorale Beppe Grillo è rimasto dietro le quinte. Virginia Raggi se la vedrà principalmente con il PD Roberto Giacchetti, con Giorgio Meloni, sostenuta da Matteo Salvini, con Alfio Marchini, appoggiato da Berlusconi, con Stefano Fassina, candidato di sinistra italiana. A Roma si confrontano due modelli di centrodestra, uno moderato e l'altro repenista, uno scontro che avrà il suo peso per gli equilibri futuri di quell'area. Le due anime del centrodestra marciano invece unite a Milano con Stefano Parisi, principale sfidante del candidato PD Giuseppe Sala. Napoli, Torino e Bologna vedono i rispettivi sindaci De Magistris, Fassino e Merola, alla ricerca del secondo mandato. Oltre a queste città imballo altri due capoluoghi di regione, Cagliari e Trieste, per un totale di 25 comuni capoluogo. L'eventuale ballottaggio due settimane dopo, domenica 19. La Sette seguirà questo importante turno amministrativo con uno speciale condotto da Enrico Mentana, questa sera a partire dalle 22.15 con ospiti, proiezioni e collegamenti dalle principali città. Si svolgeranno venerdì prossimo a Louisville, la città natale di Muhammad Ali, i funerali di uno dei più grandi campioni dello sport, se non forse il più grande, il più grande, lui amava ricordarsi con questo appellativo. L'orazione funebre sarà tenuta da un ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, e il cordoglio è unanime nel mondo per una figura che non è stata solo una figura dello sport, ma che ha avuto un ruolo importantissimo nella storia dei diritti civili d'America e non solo. L'addio a Louisville nel Kentucky, suo paese natale. L'America si è prestata a abbassare le bandiere e il tono della voce per salutare l'eroe nero, che non è Obama, l'uomo che ha preso la vita a pugni, a conti fatti ne ho ricevuti 29.000 in faccia e guadagnato 57 milioni di dollari, e che ha saputo alzare la testa oltre alle braccia dopo una vittoria. Dal presidente Obama parole definitive, è stato il più grande, punto e basta, mentre l'ex Bill Clinton ne ricorda l'incredibile velocità, e l'ex Beatle Paul McCartney il tratto gentile, la bellezza, l'ironia. Idealmente in fila mezzo mondo, forse tutto quanto, rende omaggio all'enorme, smisurato, straordinario Muhammad Ali, troppo perché le corde del ring potessero contenerlo. Troppo anche per il governo americano, che negli anni 60, all'epoca della guerra in Vietnam, ingaggiò con lui una battaglia che fece il giro del pianeta. Lui si rifiutò di partire per il fronte, non ho nulla contro il Viet Cong, nessuno di loro mi ha mai chiamato negro, e l'America lo condannò a cinque anni di carcere e alla revoca della medaglia d'oro vinta a Roma, Olimpiadi del 60, ma quella medaglia gli sarà tardivamente restituita nel 96. Nell'America degli omicidi, di Martin Luther King e dei due Kennedy, Muhammad Ali diventa un simbolo dei diritti civili, simbolo che esce dai confini nazionali, arriva sino in Africa, dove nel 74 si combatte l'incontro del secolo contro George Foreman, la sfida come la celebrò Norman Mailer. Difficile pensare e trovare uno sportivo simbolo più simbolo di Ali, e dopo aver combattuto sul ring, cominciò l'altra battaglia durata 32 anni, quella contro il Parkinson, dovuto, rivelò Ali una volta, ai cazzotti, quelli che ti fanno vibrare il cervello, come fosse un diapason. L'americano Clay è un giovane di 18 anni ed è alto 1,87 m. Il pugilato si può dividere in due periodi distinti, prima e dopo l'epopea di Cassius Clay e Muhammad Ali. La sua tecnica, basata sul gioco di gambe, ha reso possibile una rivoluzione di portata storica, costringendo i pesi massimi a diventare agili come i pugili delle categorie inferiori. La forza bruta ha dovuto cedere il posto alla rapidità di movimenti, ma lì è stato innovatore anche nella strategia in fatto di comunicazione. Era un autentico evento ogni occasione pubblica a cui partecipava, sino alla cerimonia del peso e dagli stessi allenamenti prima dei match. Tre volte ha conquistato la cintura di campione del mondo, ma per innumerevoli altre ha calamitato su di sé l'attenzione del mondo intero. Un mondo che, d'un colpo, con un orecchio attaccato alla radio, tratteneva il respiro quando Ali abbandonava il suo angolo e guadagnava il centro del ring. Una leggenda senza frontiere per un pugilato che, proprio sullo slancio delle sue imprese, sarebbe diventato una inarrestabile macchina da soldi, in grado di generare un giro d'affare miliardario negli anni di Tyson e Holyfield, personaggi che devono molto ad Ali, il campionissimo che non si è fatto intimidire da colossi di oltre un quintale, messo poi al tappeto da uno shock settico e dal morbo di Parkinson. E veniamo alle altre notizie. Ieri a Trento, confronto fra governatori di banche centrali, in confronto in cui si è parlato anche della Brexit, la prospettiva che, stando almeno ai sondaggi in Gran Bretagna, potrebbe diventare realtà con il referendum del 23 giugno. Bene, dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è giunto un allarme. Se la Gran Bretagna dovesse uscire dall'Unione, c'è il pericolo che altri paesi la seguano. Il rischio di emulazione, l'effetto domino, è ciò che preoccupa più di ogni altra cosa. Se il 23 giugno i sudditi di sua maestà dovessero scegliere di lasciare la compagnia europea e proseguire da soli, la possibilità che qualcun altro dei 28 paesi dell'Unione decida di fare lo stesso è molto concreta e preoccupa soprattutto il mondo della finanza e delle banche. Così, ieri a Trento, festival dell'economia, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e il suo collega francese, Villeroa de Galo, hanno esposto il loro punto di vista sulle conseguenze di quella che ormai non è più un'ipotesi remota, ma ogni giorno che passa diventa uno scenario sempre più probabile. Per Visco ci saranno forze che cercheranno di seguire l'esempio della Gran Bretagna, che cavalcheranno le tentazioni di fuoriuscita prospettando agli elettori la libertà di sganciare il tasso di cambio dall'euro. E dunque la responsabilità della politica sarà ribaltare la percezione di un'Europa che crea solo problemi, rafforzando l'integrazione europea. È la stessa prospettiva del governatore della Banca di Francia. Se vincesse Brexit, ci saranno probabilmente tumulti sui mercati, sui tassi di interesse, sul tasso di cambio e le banche centrali dovranno ripristinare l'ordine. Per il ministro dell'economia, Padoan, chi ci rimette di più sono i cittadini della Gran Bretagna e anche se purtroppo non ci rimettono solo loro, l'Italia, certo il ministro, è uno dei paesi che ci rimette di meno. E a proposito di Visco, il governatore si è detto contrario all'idea in Italia di un reddito di cittadinanza. Non ce lo possiamo permettere, fa sapere. Reddito di cittadinanza, sul quale sostanzialmente oggi vota la Svizzera. L'idea è di dare 2.500 franchi, praticamente la stessa somma in euro, dallo Stato a tutti i cittadini. Oggi si vota il referendum che chiede via il via libera all'introduzione di un reddito di base incondizionato. Così viene definito e non tassato per garantire una vita dignitosa a tutti, anche a chi non lavora. E veniamo alle notizie che riguardano i migranti. Ancora salvataggi nel Mediterraneo sono rientrati e i 250 salvati della nave affondata a largo di Creta. Mentre dalla cancelliera tedesca Merkel arriva un nuovo allarme. Attenzione, chiudere il Brennero vorrebbe dire la chiusura di tutta l'Europa. Tutto questo. Mentre proprio l'Unione discute del Migration Compact, il progetto, il piano, l'idea italiana di aiutare i profughi che vengono verso il vecchio continente lì, nei loro paesi. Se chiudiamo il Brennero, vuol dire che l'Unione europea è finita. Angela Merkel al congresso della CDU del Mecklenburg-Pomerania ha lanciato il suo monito, a pochi giorni ormai, dall'attesa comunicazione della Commissione europea sulla politica per la gestione dell'immigrazione. Il documento cruciale che sembra allinearsi alla proposta del Migration Compact presentata dal governo italiano. Con la chiusura della rotta balcanica, ha ricordato Merkel, al suo elettorato i flussi migratori si spostano verso l'Italia e non si può allora semplicemente dire chiudiamo il Brennero. L'Italia, insomma, non può essere lasciata sola. Occorre una solidarietà ragionevole per rafforzare la collaborazione con i paesi che confinano con le zone di crisi. Con aiuti sul posto, ha proseguito la cancelliera tedesca, vengono o meno i motivi per partire e non possiamo semplicemente arginare il problema chiudendo i confini. Un messaggio rivolto a Bruxelles, dove i funzionari della Commissione europea sono ancora a lavoro. Sul documento che sarà presentato martedì prossimo a Strasburgo per l'aiuto dei paesi di origine e transito con azioni di breve, medio e lungo periodo, si pensa all'integrazione con ulteriori 500 milioni di euro del Fondo per l'Africa, che oggi può contare su 1 miliardo e 800 milioni. Ma complessivamente in ballo, ci sarebbero investimenti per quasi 96 miliardi in sette anni. Venerdì prossimo poi si incontreranno i ministri degli interni europei, il 20 giugno i ministri degli esseri, infine l'appuntamento decisivo, quello del vertice dei capi di Stato e di Governo, in calendario per il 28 e 29 giugno. Giro di vite deciso da Papa Francesco contro chi nella Chiesa copre in qualunque maniera gli abusi sessuali commessi dai sacerdoti ai danni dei minori. si potrà rimuovere rapidissimamente il vescovo che ha coperto queste azioni. Via dall'incarico nei casi di coinvolgimento in abusi su minori. L'ultima mossa di Bergoglio contro la pedofilia nella Curia con una lettera apostolica motu proprio di propria iniziativa firmata semplicemente Francesco. Il Papa ha varato ieri una legge che stabilisce la rimozione dei vescovi coinvolti in casi di abuso sessuale sui minori. Vescovi negligenti, in qualche modo complici o responsabili di insabbiamento. Bergoglio ha così confermato la linea dura contro una delle piaghe della Chiesa degli ultimi anni. Centinaia, centinaia di casi di preti pedofili in tutto il mondo che hanno sollevato scandali e riprovazione. Come una madre amorevole è il titolo della lettera con cui il Papa ha firmato la legge perché, come una madre amorevole, dice il testo, la Chiesa ama tutti i suoi figli ma cura e protegge con affetto particolarissimo quelli più piccoli e indifesi. Il diritto canonico già prevede la possibilità di rimuovere i vescovi per cause gravi. Da adesso in poi però, visto che la nuova legge non è retroattiva, i cosiddetti casi gravi verranno esplicitamente estesi anche alla negligenza davanti a casi di abusi sessuali su minori e adulti vulnerabili. Il testo è composto da cinque articoli e prevede che nel caso in cui appaiano seri indizi di negligenza la congregazione della curia romana competente possa aprire un'indagine. Al vescovo sarà data la possibilità di difendersi. Sarà la congregazione alla fine degli istruttori a stabilire se ci siano le circostanze per la rimozione che dovrà avvenire in breve tempo. La decisione finale, l'ultima parola, spetterà comunque al Papa. In Francia, a Parigi, sembra tirare un sospiro di sollievo. Il livello della Senna dopo le minacce, l'allarme rosso delle ultime ore, sta scendendo e quindi la città non sembra più assolutamente in pericolo per un'eventuale esondazione. Ma il bilancio di questi giorni di maltempo è comunque gravissimo. 4 morti e 20.000 sfollati e non è ancora finita. Ci sono molti dipartimenti ancora in allarme rosso. Anche se Parigi tira il fiato, la Francia resta in allerta, in particolare nella zona del nord-ovest del paese. Dopo la grande piena, almeno nella capitale, la Senna fa meno paura. Ma l'onda si sta spostando verso nord-ovest e il rischio di esondazione spaventa ora la Normandia. Nella capitale, per la prima volta dopo una settimana, il livello del fiume ha cominciato a scendere. Alla stazione di Austerlitz è calato di quasi 7 metri con i turisti impegnati a scattare foto dalla Tour Eiffel dai ponti affollati. In tutta la Francia restano comunque 18 dipartimenti ancora a livello arancione della vigilanza meteo e la Normandia e il nord-ovest sono a rischio più alto. Le forti mareggiate in arrivo potrebbero infatti fare da tappo allo sbocco della Senna che allagherebbe così l'intera regione. Ieri, il premier Manuel Valls ha comunicato il primo bilancio definitivo del dopo emergenza nel paese. Quattro le vittime una trentina i feriti 20.000 gli sfollati per lo più nella regione parigina. Più di 17.000 case sono ancora senza corrente elettrica per i danni provocati alla rete di distribuzione nazionale. Ci vorrà tempo per tornare alla normalità detto Valls anche per i trasporti ferroviari aggravati dallo sciopero in corso che terminerà stasera. Il presidente Hollande ieri ha voluto visitare il Louvre dove si continua a lavorare per la messa in sicurezza delle opere d'arte. Sono 7.000 le specie a rischio soprattutto per il bracconaggio ma non solo per questo e su questo elemento che si concentra oggi la giornata dell'ambiente la 44.000 Toleranza zero contro i bracconieri questo è il messaggio delle Nazioni Unite nella 44.000 giornata mondiale dell'ambiente un crimine quello del bracconaggio e del traffico illegale di natura che mette a rischio più di 7.000 specie animali e che ha un fatturato di 213 miliardi di dollari e rappresenta il quarto mercato criminale del pianeta 60 anni fa nell'Asia tropicale nell'Africa subsahariana nonostante i rinoceronti le tigre e gli elefanti venissero minacciati erano ancora di un numero rassicurante ora invece non è più così l'aumento della popolazione umana ha ridotto i loro habitat naturali e la maggiore richiesta di oggetti di lusso è causa del bracconaggio illimitato in Africa 30.000 elefanti sono stati massacrati per rifornire il commercio degli oggetti d'avorio stessa sorte per i rinoceronti i cui corni servono per i farmaci della medicina orientale per le tigri la cui popolazione è scesa a meno di 4.000 esemplari il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha deciso di chiudere il suo mandato siglando un decreto che cancelli finalmente il commercio dell'avorio dal 6 luglio negli Stati Uniti non solo sarà vietato importare le zanne d'elefante ma si andrà in prigione anche solo commercializzandole si potrà commerciare l'avorio solo se riguarderà oggetti antichi più di un secolo e quelli che ne contengono meno di 220 grammi questo forse non fermerà del tutto il traffico dei bracconieri ma sicuramente lo rallenterà molto ma il bracconaggio esiste anche nel nostro paese oltre al traffico illegale di prodotti per la pelletteria e legnami vari per l'industria il bracconaggio colpisce anche sulla nostra fauna come i lupi eliminati a decine o gli uccelli soprattutto quelli migratori che vengono cacciati nelle piccole isole tirreniche dove sostano in primavera dopo l'estenuante viaggio dall'Africa fra poco c'è Paolo Sottocorona con le previsioni meteorologiche subito dopo omnibus gli ospiti di Marco Fratini di oggi sono Francesco Cancellato dell'inchiesta il sociologo Domenico De Masi Veronica Gentili del Fatto Quotidiano Francesco Grillo che è un editorilista del Corriere della Sera Ettore Prandini che è il vicepresidente della Coldiretti si parlerà del TTIP il famoso trattato transatlantico sul commercio vi ricordo 13.30 la prossima edizione del telegiornale domattina alle 7 per Omnibus News trovate Flavia Fratello e poi 22.15 l'appuntamento con lo speciale del telegiornale condotto da Enrico Mentana per tutti i risultati di queste elezioni comunali seggi aperti alle 7 chiuderanno alle 23 grazie e arrivederci grazie a tutti